Lui sa come ucciderle. Loro non sapranno mai il perché. L'assassina ha ucciso la vittima del sonno. Ricordati che sei tu l'assassina. Io ho un alibi di ferro. Niente ti salverà. Non sono un assassino. Quando l'informazione è il carnefice peggiore. Adesso la città può dormire sogni tranquilli. Cattive inclinazioni. Dal 26 settembre al cinema. Distribuito dalla Columbia TriStar Films.